Prima di iniziare il video, lascia un like ed iscriviti al canale, te ne saremmo davvero molto grati. Grazie. Arrivederci a Michael Gambon, l'indimenticabile albu silente di Harry Potter. L'attore irlandese Sir Michael Gambon, celebre per il suo ruolo iconico nel mondo magico, è scomparso all'età di 82 anni. L'artista, noto in tutto il mondo come il mago silente, ci ha lasciato in un ospedale di Wheatham, nella contea dell'Essex, in Inghilterra. Sua moglie, Lady Gambon, e il figlio Fergus hanno annunciato con grande tristezza che il loro amato marito e padre è scomparso serenamente, circondato dalla sua amata famiglia, dopo una battaglia contro la polmonite. Michael Gambon è stato un gigante della recitazione, spaziando dalla televisione al cinema, dal teatro alla radio. Tuttavia, il suo nome è eternamente legato al professor Albus Salanti, un personaggio che ha interpretato con maestria in sei dei celebri film di Harry Potter, prendendo il testimone dal compianto Richard Harris. Nato a Dublino il 19 ottobre 1940, Gambon ha guadagnato fama per la sua interpretazione di Philip Marlowe nella serie televisiva della BBC The Singing Detective, 1986, che gli ha fruttato un British Academy Television Award come miglior attore. La sua eredità artistica è stata amplificata dal ruolo di Albus Silente nella saga cinematografica di Harry Potter, dove ha affrontato con grazia e saggezza le sfide dell'universo magico in sei film iconici. La sua scomparsa rappresenta una perdita irrimediabile per il mondo dello spettacolo, ma il suo leggendario contributo al cinema e alla televisione rimarrà sempre vivo nei cuori dei suoi numerosi ammiratori.